La chiesa della Madonna della Pioggia prende il suo nome dall'immagine ritenuta a ragione miracolosa della Madonna che si trova sopra l'altare maggiore e che venne portata in questo edificio nel 1367 e quando venne ritrovata miracolosamente intatta fra le macerie di case in rovina durante lo scavo del canale Reno che corre qua a fianco. Nel santuario della Madonna della Pioggia confluiscono due realtà che si integrano e che si arricchiscono a vicenda. Da una parte la vita del santuario che la Diocese ha affidato alle suori missionari di Cristo Re e la vita liturgica della parrocchia. Perché dico vita liturgica? Perché nel 2012 il terremoto ha reso inagibile la chiesa in attesa di restauro. Siamo missionari di Cristo Re, siamo tresuore, siamo arrivate dalla Polonia. Qui in santuario il nostro servizio si svolge da sette anni. Quello che facciamo in santuario cerchiamo di tenere la chiesa sempre preparata, pulita. E anche, soprattutto, quello che è importante, la devozione della Divina Misericordia che si è sviluppata questa devozione da un anno nella maniera molto attiva. Grazie. 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 Grazie.